Angelo Sturni, Presidente Commissione dell'Assemblea Capitolina demominata a Roma Capitale, la commissione che gestisce un po' tutti i regolamenti di Roma Capitale, e a proposito di regolamenti ha fatto molto parlare la presunta forzatura, almeno questa è l'accusa che vi fa il PD, dei regolamenti per arrivare all'approvazione di questa delibera. Ha stato addirittura chiesto il rinvio dei lavori, ma i lavori vanno avanti fino a notte inoltrata, si riprenderà questa lunga maratona fino ad arrivare a mercoledì ad oltranza, quando ci dovrebbe essere l'approvazione definitiva della delibera cosiddetta dello Stadio della Roma. Il Movimento 5 Stelle, che ha proposto il rinnovo, l'adeguamento, il miglioramento della vecchia delibera approvata sotto la Giunta Marino, è per un sì netto su questa delibera. Perché è la migliore possibile? Sicuramente in merito alle contestazioni che sono state avanzate, il Movimento 5 Stelle ha anche bocciato la pregiudiziale che è stata presentata in aula anche su questo tema, non l'abbiamo ritenuta fondata e per questo motivo siamo andati avanti sulla nostra strada che riteniamo tra l'altro sicuramente una strada di buon senso, visto che il progetto che in questo senso, anzi la proposta di delibera che in questo momento è in discussione in Assemblea Capitolina è un passo in avanti rispetto al precedente, visto che comunque si è andata per così dire ad adeguare a una visione diversa di città e all'interno di quelle che poi sono state le linee programmatiche per il governo della città che sono state approvate in Assemblea Capitolina d'agosto 2016. Perché dico questo? Perché all'interno della Nuova Libra ci sono tutta una serie di principi che fanno parte poi del panorama, del programma del Movimento 5 Stelle. Pensiamo soltanto al fatto dell'utilizzo dei materiali che ovviamente è del basso impatto energetico che deve avere quest'opera pubblica diciamo importante o comunque quest'opera che appunto viene confermato, ecco il pubblico interesse rispetto alla 132 del 2014. Quindi noi andiamo avanti su questa strada proprio perché pensiamo che con questi accorgimenti che sono stati introdotti con una delibera licenziata dall'Aggiunta si possa appunto avere un'opera sicuramente migliore rispetto a quella che noi abbiamo trovato, una riduzione anche delle cubature per il Business Park, nonché anche tutti gli altri elementi legati poi alle vari ponti ciclopedonali, dei collegamenti tra le varie stazioni, nonché anche tutto il tema legato alla Roma Lido che ovviamente vedrà anche attraverso questa delibera una serie diciamo di un rinforzo importante anche per quanto riguarda i treni e come sappiamo Roma Lido che è comunque di competenza come infrastruttura della regione e su questo insomma è importante che anche Roma possa giocarsi la sua partita anche attraverso questa delibera per dare la possibilità alla cittadinanza ovviamente poi di regarsi materialmente quindi allo Stato di avere una mobilità che consenta poi un flusso insomma regolare. Quindi sono tutti una serie di aspetti. Pensiamo anche al fatto della questione legata agli attracchi insomma sul Tevere e nonché anche al Parco Fluviale. Insomma sono tutti elementi che vanno in questo senso ad avere una nuova visione, l'eliminazione delle tre torri, insomma tutta una serie di elementi che entrano a far parte di questa proposta e che hanno recepito in un certo senso la nostra visione diciamo delle opere pubbliche o comunque delle opere diciamo di importanza per la città differente. Paolo Ferrari intervenendo ai nostri microfoni, il capogruppo del Movimento 5 Stelle ha detto purtroppo questa delibera sullo stadio ce la siamo ritrovata. Volevamo uno stadio della Roma ma non lo volevamo così, non abbiamo potuto far altro che migliorare questa delibera, non potevamo agire diversamente e quindi questo è il meglio che abbiamo potuto proporre. Vi aspettate? State già lavorando altre delibere che vi siate ritrovati e che in qualche modo volete migliorare e soprattutto quali sono le novità dell'amministrazione, in particolare penso alla sua commissione che si occupa dei regolamenti della città, anche dell'interazione tra il cittadino e l'amministrazione. Quali sono le cose che potete migliorare e quali sono le cose che invece pensate di in qualche modo inserire nei regolamenti del comune per migliorare il rapporto tra il cittadino e l'amministrazione? No, vi ringrazio, questa domanda è importante perché noi abbiamo fatto un esame in questi primi mesi e abbiamo anche cominciato a riscrivere i regolamenti fondamentali per l'ente, che ovviamente sono regolamenti che il cittadino non vede, però ha un impatto ovviamente sulla cittadinanza quando si rega agli uffici, quando cerca di capire se l'amministrazione è veloce a dare delle risposte. Primo pensiamo al regolamento sugli istituti di partecipazione che è del 1994, quindi ovviamente è mai stato modificato e è disallineato con il nuovo statuto di Roma Capitale che è stato approvato nel 2013 e per questo motivo abbiamo pensato di cominciare alla riscrittura di un nuovo statuto per Roma Capitale che è un po' la costituzione della città per poter dare nuovi poteri e nuove possibilità ai cittadini di poter essere consultati su determinati temi. Ne faccio uno su tanti, è stata fatta una sperimentazione qualche settimana fa legata ad esempio a Viale Marconi. Viale Marconi aveva questa opportunità di essere realizzata una zona preferenziale appunto su Viale Marconi, c'erano vari progetti da parte della cittadinanza e quindi cosa è stato fatto? Sono state messe a sondaggio online, una consultazione non vincolante, questi progetti e la cittadinanza si è espressa appunto approvandone o comunque diciamo riconoscendo prevalenza uno piuttosto che un altro perché è importante conoscere diciamo la percezione dei cittadini su questi progetti che poi li riguardano perché ovviamente chi risiede nella zona, chi ovviamente lavora, cioè vive la città e quindi ha bisogno di sapere e di anche decidere se effettivamente vuole sull'area diciamo all'interno della zona del municipio che lavora ad esempio una zona preferenziale, un'area preferenziale, una via preferenziale che sia in un modo piuttosto che un altro perché ne vale della propria vivibilità, ne vale del proprio tempo, quindi sono tutti aspetti che comunque sono collegati alla vita delle persone, quando noi chiediamo e vorremmo poi con questa modifica dalla possibilità città di fare delle petizioni online o comunque partire con il bilancio partecipativo a Parigi faccio un esempio su tanti, votano 400 milioni di euro online di opere pubbliche, cioè opere ovviamente contenute ma si tratta di piccole opere magari anche nei territori che servono per la città e vengono consultati i cittadini magari in una zona carente di un'opera, di un asilo o comunque di un parco o una certa tipo di manutenzione, allora la cittadinanza viene coinvolta proprio per capire su magari una piccola quota del bilancio come utilizzare meglio i loro soldi, quindi questo è fondamentale per poter ascoltare la città che probabilmente negli ultimi anni non è stata ascoltata.